La squadra mobile di Agrigento arresta un uomo di Canicattì, rientrava da Palermo su un pullman di linea con 20 grammi di eroina concessi domiciliari. Il comune di Canicattì amano un bando per l'assegnazione di circa 200 borse lavoro, possono partecipare disabili e famiglie svantaggiate. Nei sogni dell'Acra Gas Calcio la Serie B, l'annuncio dato dalla nuova dirigenza durante una conferenza stampa che si svolta ieri. Bentrovati all'appuntamento con dell'informazione sulla nostra emittente, detenzione ai fini di spaccio. Questa è l'accusa che viene rivolta a Maurizio Licalzi, 41 anni di Canicattì, arrestato ieri dagli agenti della squadra mobile di Agrigento. All'uomo viene contestato inoltre il reato di inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall'autorità giudiziaria per avere violato l'obbligo di dimora nel comune di Canicattì. La squadra mobile nell'ambito di una mirata attività di controllo finalizzata allo spaccio ha intercettato all'altezza del bivio per grotte un pullman di linea proveniente da Palermo a bordo del quale viaggiava Licalzi. Il mezzo è stato seguito dalla polizia fino a Favara dove l'uomo è sceso e con fare sospetto si è diretto all'interno di una piazzola di un distributore di carburante dove lo attendevano altri tre uomini dentro un'auto. Gli agenti hanno perquisito la vettura e tutti gli occupanti, in particolare Licalzi, è stato trovato in possesso di 20 grammi di eroina custoditi in un involucro di plastica all'interno dei pantaloni. Arrestato in flagranza di reato, Maurizio Licalzi è stato trasferito in questura ad Agrigento e subito dopo gli sono stati concessi gli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria. Sette donne di nazionalità romena sono state fermate ed identificate dalla polizia mentre si trovavano in abiti succinti ad intralciare il traffico conversando con gli automobilisti lungo una strada alla periferia di Caltanissetta. L'intervento della polizia è scaturito dalle lamentele degli abitanti della zona. L'età delle rumene varia tra i 21 e i 24 anni e le stesse, secondo la polizia, si trovavano in trasferta per vendere il proprio corpo. Dopo il controllo degli agenti, infatti solo una delle sette era residente a Caltanissetta mentre le altre provenivano da Canicattì e da altri comuni della provincia di Agrigento. Due delle donne fermate risultano con precedenti penali per oltraggio, minacce e ingiuri e atti contrari alla pubblica decenza. A carico di tutte le donne coinvolte si valuta l'emissione di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Caltanissetta per i prossimi anni. Un migrante è morto e un altro è rimasto ferito gravemente nel corso di una sparatoria avvenuto a largo delle coste libiche. Sarebbe stato il personale di una moto vedetta libica ad aprire il fuoco contro un gommone diretto in Italia sul quale viaggiavano circa 200 persone. Il gommone, secondo il racconto dei testimoni, sarebbe stato avvicinato da una unità libica con miliziani a bordo che avrebbero chiesto denaro ai migranti al loro diniego. Questi avrebbero esploso alcuni colpi d'arma da fuoco nella loro direzione. Il mio ferito è stato trasferito in elicottero al poliambulatorio di Lampedusa e poi trasferito al civico di Palermo. Mentre il corpo dell'uomo ucciso non era a bordo al momento dello sbarco sulla maggiore delle isole Pelagie perché dopo essere stato colpito sarebbe caduto in mare. Sette dirigenti del Catania Calcio tra i quali il presidente Antonino Pulvirenti, il suo vice Pablo Consentino e l'ex direttore sportivo del Catania Daniele Dellicarri sono stati arrestati su ordine della direzione distrettuale antimafia della città etnea. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di frode in competizioni sportive e truffo. Avrebbero comprato le partite alterando così i risultati degli incontri della squadra etnea e l'esito del campionato di Serie B. Perquisizioni sono in corso in tutta Italia. E' crollato davanti ai poliziotti e al magistrato che lo hanno messo sotto torchio per circa due ore. Ho ucciso io quel benzinaio, il pieno era troppo costoso, mi aveva chiesto 68 euro. Mario Di Fiore, un moratore pensionato e incensurato, è l'assassino di Nicola Lombardo, il benzinaio ucciso in Piazza Lolli a Palermo con un colpo di pistola calibro 7, 65 sabato pomeriggio. E' accusato di omicidio volontario, ha aggravato dei futili motivi. I poliziotti sono arrivati a lui attraverso un'indagine vecchio stile, incrociando dati e riuscendo ad arrivare alla targa esatta della punta ripresa solo in parte dalle telecamere di videosorveglianza della città. E' stato un gesto d'impeto, ha detto Mario Di Fiore, che abita a Brancaccio, e ne sono pentito. I carabinieri indagano su una rapina messa a segno a Bolognetta, in provincia di Palermo, al ristorante Tabacchi La Collina. Tre uomini, avvolto coperto e armati, dopo aver sfondato la porta d'ingresso, sono entrati e hanno portato via sigarette e contanti per circa 100 mila euro. Sorpresi dai proprietari, hanno sparato alcuni colpi di pistola senza ferire nessuno. La banda, la stessa notte, avrebbe messo a segno due furti in altrettante tabaccherie di Favara. L'auto utilizzata, una BMW, è stata rubata a gel e le indagini sono condotte dai carabinieri. E' solo in fase di accertamento le cause dell'incendio, che l'altra notte ha distrutto una Renault Modus a Favara. L'auto è intestata ad un'esercietà di restauri, con sedia da grigento, ma è in uso ad un operaio di Favara. E' stata completamente divorata dalle fiamme, mentre si trovava parcheggiata in via Olanda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato più di un'ora prima di spegnere l'errogo. Giudizio abbreviato, quindi, allo stato degli atti e senza alcun dibattimento per i cinque agrigentini imputati nell'ambito dell'inchiesta Bravi Ragazzi, che ipotizza un traffico di droga, ascisce, cocaina ed eroina importata dall'Albania e smerciata in Sicilia. Ieri mattina è partita l'udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale di Torino. Sono 23 gli imputati, molti dei quali arrestati nel blitz del 25 novembre scorso. Quattro i destinatari delle misure cautelari in carcere, seguiti da Grigento, Alessandro Puntorno, e i fratelli Vincenzo, Mario e Giuseppe Cacciatore. Nella lista anche Andrea Puntorno, fratello di Alessandro, agrigentino, trapiantato a Torino, che era finito in carcere, e la sua convivente, Patrizia Fiorillo, che era stata invece posta ai domiciliari. La Corte d'Appello di Palermo ha ridotto la pena che era stata inflitta a Giuseppe Mulè, 48 anni, di Palma di Montechiaro, accusato di tre episodi di estorsioni con metodo mafioso. Il palmese, in primo grado, era stato condannato a sei anni e undici mesi di carcere, allora invece la pena è stata portata a cinque anni e dieci mesi. I giudici, infatti, hanno accolto le richieste del difensore e hanno abbreviato la pena. Il palmese è l'unico imputato dell'inchiesta ad aver chiesto l'abbreviato. Gli altri coinvolti sono Giovanni Alotto, 32 anni, e Caloggio Ramato, 42 anni, che da tempo sono stati rinviati a giudizio. Le presunte vittime degli episodi di estorsione sono il farmacista Claudio Miceli, di Palma di Montechiaro, un commerciante cinese e l'amministratore di un supermercato. Sono circa 2.000 dipendenti del settore della formazione professionale rimasti senza lavoro e attualmente in cassa integrazione. Adesso si mobilita il vicepresidente della Regione, Mariela Lobello, che ha lanciato un appello al Governo nazionale affinché venga aperto un tavolo di crisi. Il servizio. La Regione siciliana chiede al Governo Renzi di aprire un tavolo di crisi per i lavoratori della formazione professionale che conta circa 8.000 addetti impiegati in 2.464 enti. Sono circa 2.000 i dipendenti rimasti senza lavoro in cassa integrazione, per i quali il Governo Crocetta lancia un appello al Governo nazionale affinché venga aperto un tavolo nazionale di crisi. L'ho annunciato in una conferenza stampa a Palermo nella sede dell'assessorato la vicepresidente della Regione con delega alla formazione professionale, Mariela Lobello. Dopo l'incontro di ieri pomeriggio con i sindacati e gli enti addetti Lobello, apriamo il tavolo di crisi nazionale della formazione. Chiediamo al Governo nazionale risposte necessarie affinché i lavoratori non più dipendenti vengono presi in considerazione. Mercoledì sarò a Roma per chiedere se i fondi FEG per l'aggiornamento del personale possono essere destinati alla riqualificazione di questo bacino. Dobbiamo salvare la formazione buona in Sicilia, ha aggiunto. E secondo i dati dell'assessorato i lavoratori della formazione sono così ripartiti. 5.900 sono impiegati in interventi specifici dell'ambito della formazione professionale. Circa 457 operano nell'ambito dell'obbligo di istruzione e formazione. Circa 1.739 sono ex addetti degli sportelli multifunzionali operanti nei centri per l'impiego. Mariella Lobello in conferenza stampa discute anche del programma Garanzia Giovane e dell'obiettivo del Governo regionale di salvare i tirocini del piano giovane da 500 euro finanziati con fondi dell'Unione Europea della programmazione 2007-2013 destinati ai giovani disoccupati siciliani. Quasi un anno fa il Governo aveva annunciato che la selezione avrebbe dovuto svolgersi a settembre scorso ma non è mai stata realizzata. Tutte le misure del piano giovane, ha assicurato Mariella Lobello, saranno rimesse in campo con la nuova programmazione. Durante l'incontro con i giornalisti è emerso anche che dei fondi della programmazione comunitaria 2007-2013 la spesa che l'assessorato alla formazione deve certificare entro il 31 dicembre del 2015 ammonta 350 milioni di euro ma finora è stato certificato il 50%, circa la metà. In un solo comune, Luccasicula, che fa parte del lato a G1, ieri hanno scioperato i lavoratori della Soger impegnati nel servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Nessuna protesta invece nei restanti comuni in tutto 16. A fare da decidere agli operai di evitare la protesta e il completamento del pagamento dello stipendio di aprile da parte del commissario straordinario. Achille Furioso, solo a Cianciane i lavoratori sono creditori del saldo del 40% di questa mensilità. In alcuni comuni come Sciacca, Ribera, Santa Margherita, Belice, Montevago e Burgio il commissario ha pagato anche lo stipendio di maggio a Caltabellotto. Gli operai invece hanno ricevuto il 60% della mensilità di maggio. Tra sette giorni, il 30 giugno, scadrà il mandato del commissario e il funzionario regionale, entro quella data, vuole saldare a tutti le mensilità arretrate. A rischio la stagione estiva di Lampedusa e Linosa a causa dei disagi nel trasporto marittimo. Il governatore della regione Crocetta ha sentito l'assessore Pizzo per affrontare in termini di urgenza il tema della carenza di collegamenti su Lampedusa e Linosa dopo che le due gare svolte sono andate deserte. La stagione estiva delle pelagge, ha detto il presidente Crocetta, non può essere compromessa dagli interessi dei cartelli della navigazione che puntano ad un aumento ingiustificato delle tariffe. L'assessorato che è in contatto con la prefettura di Agrigento sta pensando ad una procedura d'urgenza per l'affidamento del servizio che potrebbe concludersi immediatamente. Ma il sindaco Giuse Nicolini continua ad esprimere tutte le proprie perplessità soprattutto perché si tratta di un problema che ha origini antiche che non è mai stato veramente seriamente risolto. Nel frattempo sul web impazza l'hashtag voglio andare a Linosa e video appello degli organi competenti. In prima linea ci sono anche l'attore romano Cristian De Sica, Lorenzo Giovanotti e Claudio Baglioni, quest'ultimo molto legato all'isola di Lampedusa e fondatore della manifestazione Oshami. A Canicattì è stato emanato un bando che riguarda l'assegnazione di circa 200 borse lavoro destinate ai disabili e alle famiglie svantaggiate. I dettagli nell'intervista con l'assessore Davide Gentile. Nuovo bando per le borse lavoro in provincia di Agrigento anche a Canicattì. A chi è destinato questo bando e quando scaderà? Sì, il termine di scadenza è il 15 luglio. Questo è destinato a tutti coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e i 65 anni. Quindi a coloro che appartengono ad una categoria meritevole di attenzione in quanto versano in condizioni economiche non molto floride. Quindi pertanto tutti coloro che hanno questi requisiti possono presentare domande. Il progetto riguarda l'assistenza egirico personale per i portatori di handicap scolarizzati, per la cura del verde pubblico, polizie locali e cimiteriali, per il trasporto dei disabili, per gli educatori professionali. Quindi tutti coloro che sono interessati e che hanno i requisiti possono presentare domanda. Poi sarà attribuito, sarà stirata una gradatore in funzione dei criteri che sono stati approvati dal Comitato dei Sindaci. E pertanto poi appunto il tempo di preparare la gradatore si avveranno questi borsisti. Il Comando della Polizia Municipale di Agrigento ha predisposto un servizio tra centro, città e periferie per la vigilanza sul rispetto degli orari di conferimento della spazzatura e contro il deposito incontrollato di rifiuti e materiali ingombranti. Giornalmente la squadra dei vigili urbani pattuglierà le aree più a rischio per un'opera di prevenzione e di contrasto al fenomeno. Intanto prosegue il lavoro degli operai comunali che stanno rifacendo alcuni spazi di Agrigento soprattutto della località balneare di San Leone. Buone notizie per i tifosi dell'Acragas Calcio. Siamo allo sport. Se il presidente Silvio Alessi annuncia la Serie B il nuovo socio Marcello Giavarini la esalta e la vorrebbe fare subito sua. Voglio illustrarvi, ha detto Giavarini, il progetto calcistico della nuova proprietà le parole che sentirete spesso da me e dal mio staff sono sviluppo e ricerca cioè l'Acragas deve puntare tutto sulla ricerca di giovani calciatori di talento da sviluppare per permetterci di arrivare all'obiettivo. Qual è l'obiettivo primario? Quello che ci siamo posti come fede calcistica la Serie B. Il calcio è fede nel cuore ma come tutti i club sportivi di Serie A deve essere gestito come un'azienda e questo è ciò che deve fare l'Acragas immediatamente cambiare gestione e diventare un'azienda in grado di generare profitti da reinvestire nel calcio per salire di categoria sportiva. E' impensabile, conclude Giavarini, voler arrivare in Serie B con un club pieno di debiti questi falliscono e non raggiungono nessun obiettivo. Hanno sbaragliato cinque avversari in altre tante partite disputate a Catania i ragazzi allenati da Basilio Foti e Gioacchino Lamagra. Il Canicattin 1928, così ad un passo dall'affidazione con il Catania Calcio offrendo una vetrina prestigiosa ai giovanissimi atleti che hanno spiccato in difesa e in attacco. I match giocati hanno visto prevalere i calciatori canicattinesi in erba per 4-1 contro il Giarra, 4-0 contro il Salerno, per 2-1 contro la Cusa, per 6-1 contro Floridia e per 3-0 contro il Belpasso. Soddisfazione è stata espressa dalla società Biancorosta. Sono iniziati i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Ausiliatrice in contrada a Giacchetto, a Canicattì, diverse sono le iniziative in programma fino al 28 giugno. Venerdì si svolgerà un incontro di calcetto presso il maneggio EquiSport dei fratelli Cuccione. Sabato 27 invece si esibiranno i ragazzi della Latin School di Marzia Calà. I festeggiamenti si chiuderanno domenica prossima con la Sagra del Dolce prevista alle 22. E nel quadro dei festeggiamenti in onore del patrono di Campobello dedicato a San Giovanni Battista stasera alle 18 il santo sarà portato in processione nel cortile del municipio dalla via Garibaldi. Sarà celebrata una santa messa da donna Calogero Montana alla presenza del sindaco dell'amministrazione comunale dei consiglieri degli impiegati comunali e della cittadinanza. Alle 20.30 nella Chiesa Madre dedicata al protettore del paese saranno ufficiati i vespri in onore di San Giovanni Battista e avverrà la benedizione eucaristica. Questa era anche l'ultima notizia del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e a tutti voi un arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.